Strade con la Brodo, sono molte le arterie che attraversano la città di Pagani che necessitano di interventi. Il Comune sta interloquendo con la Regione Campania e con la provincia di Salerno per porre rimedio a questa situazione. Noi come Comune di Pagani abbiamo in tinnere una gara per andare a fare un rifiacimento dell'asfalto in maniera concreta, con il bainter e poi con il tappetino su alcuni tratti di strada molto trafficati, via De Gasperi, via Mangioni. E ancora di più abbiamo chiesto alla provincia di Salerno, così come alla Regione Campania, di poter intervenire attraverso un loro concreto aiuto sulle strade che molte volte non sono di competenza comunale. Intanto, dopo l'ondata di maltempo, si traccia un bilancio dei danni. Soddisfatto il sindaco Salvatore Bottone, le ultime piogge infatti non hanno provocato grossi disagi in città. Gli interventi messi in campo preventivamente durante l'estate e ancora prima hanno dato un messaggio forte e rassicurante in questa fase di ondata. Dobbiamo dire che stiamo continuando a lavorare, vogliamo continuare a rassicurare i nostri concittadini che questi soliti e noti punti critici dovrebbero trovare una soluzione da qui a breve, con l'inizio dei lavori per la fognatura di via Leopardi, con l'intervento a farsi da parte del lato dell'ente d'ambito e della Gori, così come anche per quanto riguarda il completamento definitivo dei lavori della vasca di contenimento a Monte, cioè del Vallone Pignatare e quindi con la raccolta di tutte le acque che vengono dalla parte collinaria della nostra città. Così come ho già avvertito e credo che insieme faremo un intervento forte il sindaco di Sant'Egidio e Monte Albino, Nunzio Carpentieri, per cercare di trovare una soluzione definitiva a quello che è poi un rivolo d'acqua che ci proviene dalla zona vicina di Sant'Egidio e Monte Albino nella zona di via Sorvello e diventa poi impraticabile quella strada con la diacente via Leopardi, così come con la via di Sant'Egidio e Monte Albino via Ugo Foscolo. Quindi insieme a Nunzio Carpentieri, io per la mia parte e lui per quanto compete, ha i giusti solleciti alla Gori affinché possa intervenire in tempi rapidi per risolvere questa problematica.